Amici di LigureWeb.tv, bentornati a Star Bene in Gravidanza. Sigla! Sono qua di nuovo con la dottoressa Valentina Erone e la dottoressa Paola Lorenzi, psicologa e ginecologa. Grazie Leslie dell'invito. Buongiorno, don Lorenzi, ginecologa. Puoi anche stare dritta perché... Allora, volevamo oggi affrontare un argomento che sta emergendo nel corso proprio Star Bene in Gravidanza che si sta svolgendo a Imperia. E quindi per chi ancora non lo sa vogliamo appunto ricordarvelo. Che è il discorso un po', lo dicevamo prima Valentina e Paola, un po' dell'ansia, delle paure, del cambiamento. Quindi prima volevo fare una domanda a te. Una donna in gravidanza, qual è la percentuale di donne che arriva e che è tranquilla della gravidanza? La paziente ideale di noi ginecologi, in realtà ci sono tanti tipi di ansie diverse, però uno o l'altro, ogni paziente ha le proprie ansie che emergono nel momento della gravidanza. Anzi, sia passate che proprio legate all'evento gravidanza, che appunto per ogni donna è un'incognita. Sia, anche se è già partorita come parlavamo prima, anche se uno ha la seconda o terza gravidanza, paure ce ne sono, magari diverse dalle prime, però continuano a esserci ansie di ogni genere legate alla gravidanza. Dottoressa Irone, come possiamo aiutare, o dire qualche parola, proprio a questo riguardo, riguardo all'ansia, ingravidanza e alle paure? Che cosa può fare? Allora, la prima cosa che mi viene è accettare, la seconda consapevolizzare. In che senso? Allora, l'ansia è un'emozione universale, naturale, che proviamo tutti. E perché la proviamo in quel momento? Perché effettivamente siamo di fronte a una sorpresa, siamo di fronte a una trasformazione profonda, a un grande cambiamento, non solo personale, ma anche di ruolo, un cambiamento nella coppia, nella famiglia, nella società, immagino il lavoro, una serie di fattori. E quindi cos'è che ci spaventa? Un po' l'incognita di come sarà, come andrà, come farò, ce la farò? E quindi tutte quelle domande che ci fanno stare nell'incertezza. E nella società di oggi non si sta bene nell'incertezza. Vogliamo il controllo della situazione, che è utopico, e quindi è la base di queste patologie. E vogliamo tutto subito. E invece la gravidenza, un tempo suo, lungo, di attesa, di nove mesi, che quei nove mesi sono fondamentali, non solo per la crescita in utero del feto e quindi del nostro bimbo, ma sono fondamentali per riuscire a prendere consapevolezza piano piano, settimana, mese dopo mese e avvicinarci noi stesse come donne a quell'evento. Quindi arrivare ad un progetto che inizialmente è solo mentale, a un progetto reale. Quindi cosa fare? Ci sono varie tipologie di tecniche. Però prima di arrivare a quella, una brevissima premessa. Dobbiamo capire se arriviamo già da un vissuto e un tessuto ansiogeno, allora si può intervenire con una rassicurazione e quindi con l'informazione. Partecipare al nostro corso, partecipare al preparto, partecipare in modo consapevole con il ginecologo di riferimento. Avere domande, avere risposte scientifiche, non su Google, mi raccomando, perché ho pazienti che si creano ansie su ansie. E il partner... È vero, no, riforgetevi sempre un professionista. Ma ho letto questo, ho letto quello, ho letto quello. Assolutamente. Il partner, non dimentichiamolo, perché ha un ruolo fondamentale il futuro papà, perché più noi viviamo in un clima sereno di accoglienza, dove anche gli altri ci fanno una rete di sostegno e quindi immagino i genitori, i familiari, questo aiuta. Poi che fare? Dedicarsi del tempo, prendersi del tempo per sé. E quindi in che modo? Non è una malattia la gravidanza, si può continuare a fare, a meno che il medico non dia prescrizioni differenti. Comunque... È vero? Sempre più rare le pazienti che non si devono fermare. Ecco, appunto. Quindi può fare tutto. Quindi comunque l'alimentazione, l'attività fisica, il respiro, sono molto utili delle tecniche di rilassamento, utilizzando le visualizzazioni. Tra l'altro facciamo fare proprio durante le serate, quindi va benissimo, serate e giornate. Non trascurare la vita sociale, le amiche, il lavoro, cioè continuare a fare una vita normale regolata dal nuovo ritmo psicofisico. Questo, ascoltarsi e imparare a ricalibrare un equilibrio nuovo. Perfetto, perfetto. Quindi prendetevi del tempo per voi stesse. Quindi non guardate Google, non guardate tutto quello che vi può agitare e siete sempre voi e il vostro partner al primo posto. Vi ringraziamo, noi continuiamo con il corso Star Bene in Gravidanza. Se volete indicazioni trovate tutto qui in alto. Perfetto, io ringrazio nuovamente la dottoressa Lorenzi e la dottoressa Laura. Grazie, grazie. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Cambia Vita con Calma. Un abbraccio.